...in dono l'incenso che purifica l'aria. Ed io, Melchiorre, fui scelto fra i magi per un dono speciale, la mirra che sana... Ed io, Melchiorre, fui scelto fra i magi per un dono speciale, la mirra che sana le ferite e lenisce il dolore. Siamo naufraghi in un mare oscuro senza orizzonti, siamo sperduti in un deserto senza nome. Soltanto la stella può indicarci il sentiero, la metafora della vita è un viaggio. Siamo naufraghi in un mare oscuro senza orizzonti, siamo sperduti in un deserto senza nome. Soltanto la stella può indicarci il sentiero, la metafora della vita è un viaggio. Anche noi, anche noi, per i primi cieli, siamo messaggeri. Siamo naufraghi in un minuto. Siamo naufraghi in un'altra notte che in un... Grazie.